Si è tenuta presso la chiesa del convento dei frati Capucini di Cirignola nel Fogiano il concerto di Natale dal titolo Andel Dixit Dominus organizzata dall'associazione Federico II Eventi in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Cirignola. Il concerto è stato eseguito dal Florilegium Voces e dal coro dell'orchestra di Santa Teresa dei Maschi diretta dal maestro Savino Manzo. L'esecuzione del salmo citato e della cantata mariana costituisce un'occasione per ascoltare dal vivo queste nobili musiche poco eseguite, anche di particolare difficoltà, che richiedono solisti e coro che sappiano essere cordiovati da un'orchestra formata da archi e basso continuo. La presentazione è stata fatta dalla responsabile dell'associazione Federico II Eventi per Foggia, Provincia e Batte Cizia del Corral insieme all'assessore alla cultura del comune di Cirignola Giuliana Colucci. Tra l'altro tutto è stato fatto seguendo le indicazioni dell'historical informe performance in pieno stile Santa Teresa dei Maschi. Mimmo Siena, speciali news e dal commento dei frati Capuccini. Cirignola, Foggia.